Proseguirà al CGA la vicenda amministrativa che vede contrapposti i comuni di Castellumberto, Caprileone, Naso, San Salvatore di Fitali e Terme Vigliatore e il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Città Metropolitana di Messina. I ricorsi sono stati presentati in merito ai Piani Urbani Integrati, PNRR. Pare che alcuni anni fa, nel contesto della programmazione, i comuni della provincia di Messina siano stati invitati, in base alla fascia di popolazione, a presentare progetti che poi sarebbero confluiti in un progetto unico predisposto dalla città metropolitana. Questa possibilità fu in avanti azzerata e i comuni si videro privati delle prospettive collegate agli interventi che sarebbero stati finanziati. Lo scontro con i comuni si è concretizzato perché, mentre nelle altre province siciliane i comuni del territorio di riferimento riuscirono nel loro intento, questo non si è concretizzato per quelli della provincia di Messina. I progetti in questo caso avrebbero riguardato solo il comune di Messina e aree della provincia. Da qui il ricorso al Tar di Catania, che ha dato ragione all'ente di Palazzo dei Leoni, rigettando i ricorsi proposti dai comuni per infondatezza, accogliendo la tesi difensiva e ribadendo la correttezza dell'operato della città metropolitana di Messina con il rigetto sia della domanda risarcitoria che della domanda di merito. I comuni hanno presentato appello, ora sia in attesa che il CGA fissi la data dell'udienza. Palazzo dei Leoni sarà rappresentato ancora dall'avvocato Giuseppe Passaniti.